Ben ritrovati sul canale, sono Fanny e se siete capitati su questo video è perché volete saperne di più di questo oggettino che tengo in mano. Questo qui è il nuovo laser iCube della SkullFun, me l'ha mandato Jack Bynd per provarlo, per voi, testarlo, per dirvi cosa ne penso. Quindi adesso andiamo a provarlo insieme. Lo guardiamo un pochino più nel dettaglio e vi dico cos'è, cosa fa, cosa serve e perché è così piccolino. Allora come vedete le dimensioni sono veramente compatte, parliamo di un circa 30x30 cm, altezza sui 25 cm, quindi è veramente un cubo, giustamente si chiama iCube. Perché è così piccolo? Perché è progettato appunto per essere tenuto su una schimania, quindi in un ufficio o comunque in un posto dove magari noi non abbiamo la possibilità di avere un laser più grosso come quello che ho io. Allora necessitiamo di qualcosa di più piccolino, SkullFun ha creato questo oggetto qua. La particolarità di questo laser è appunto che non ha bisogno di avere un sistema di estrazione di fumi perché è dotato di filtro interno, adesso vi faccio vedere, e di una copertura per gli occhi. Come vedete una volta chiuso diventa, non dico ermetico, però riesce a filtrare la maggior parte dei fumi e il fastidiosissimo e pericolosissimo fascio laser. La SkullFun ha creato tre modelli di questo laser, l'unica cosa che cambia è appunto il modulino. Questo qui è il Pro Max perché è dotato di un laser ad iodo da 10 watt, poi c'è la versione normale di iCube che è da 5 watt e la versione più piccolina e economica da 3 watt. Ovviamente più si vai su con la potenza più siamo in grado di tagliare materiale. Mentre se invece noi abbiamo bisogno solo di esclusivamente di incisioni sarebbe paradossalmente meglio avere un laser un pochino meno potente perché riesce ad avere il fascio più sottile e quindi più preciso. Diciamo che una via di mezzo, nelle due cose sarebbe magari un 5 watt e sarebbe già abbastanza. Questo è un 10 watt e quindi proveremo anche a tagliare qualcosa, cosa che con il 5 watt sicuramente non si riesce a fare. Il laser vi arriverà assemblato, quindi già pronto così, l'unica cosa che ci sarà da montare è il modulo laser ma si monta veramente con una molla e va giustamente collegato al connettore. Nella scatola troviamo anche due pezzi di legno, un pezzettino di MDF e uno di multistrato da provare e i filtri di ricambio. Filtri che vi dicevo prima che sono inseriti nella parte inferiore qui dietro, sono intercambiabili quindi quando si finiscono, quando si esauriscono si possono sostituire facilmente e vi mandano già un primo ricambio. Quindi qui abbiamo un filtro EPA e un filtro a carboni attivi. Sono montati già sulla macchina ma ne avete due di scorta. Oltre a questa abbiamo anche ovviamente il manuale di istruzioni, piccolo set di utensili, una lente di ricambio, giustamente l'alimentatore e un paio di occhiali. Occhiali che vi consiglio di buttare via e prendere degli occhiali che vi lascio qui in descrizione. Sulla base abbiamo una piastra removibile, si può intuire perché qui sotto è forato perché appunto questo laser permette magari di, se dovete lavorare su pezzi più grossi, e dovete laserare un determinato punto, vi basterà posizionarlo dove vi serve e non ci sarà bisogno di altro. Se invece non volete rovinare il piano inferiore mettete questo e poi vi mettete il vostro pezzo. Per regolare l'altezza del laser sul modulo stesso c'è presente una mollettina che tiriamo giù e deve andare in appoggio sul pezzo. In questo modo. Una volta andate in appoggio si smolla e abbiamo già l'altezza predefinita per il modulo laser. A questo punto ci sono più di un metodo per collegarsi al modulo laser. Il più, diciamo, intuitivo e veloce da fare è appunto scaricare un'app, scaricare l'app della SchoolFan. Trovate il QR qui dentro, il manuale di istruzioni da inquadrare, vi rimanda all'applicazione della SchoolFan da scaricare. Una volta scaricata sul telefono tramite wifi vi attaccate al modulo laser. Infatti il modulo laser emana una sua rete wifi a cui col cellulare vi attaccate è riuscito a comunicare appunto col macchinario. Stando alle istruzioni si può anche collegare con l'Hightburn tramite bluetooth. Ovviamente con l'app del telefono è più facile e più veloce. Se dobbiamo fare un disegno, se dobbiamo portargli una foto, possiamo farlo. Possiamo scattare una foto e mandarla al laser. Però se dobbiamo fare magari qualcosa di più elaborato, che in cui ci serve l'Hightburn, abbiamo per forza bisogno del computer. L'app è comoda, ma secondo me per fare le cazzative. Allora adesso vi faccio vedere l'applicazione SchoolFan, come funziona. Vedete, dopo averla scaricata vi si apre una schermata bianca, che sarebbe l'opzione di disegno. Noi possiamo selezionare qualsiasi cosa, ad esempio andare a mandare dei disegni o delle righe, o addirittura dei disegni fatti da noi, così, in questo modo qua. Oppure addirittura una stella o un codice a barre, creare un codice a barre di lettura, cose così. Oppure possiamo scattare una foto e mandarla al laser, tramite la fotocamera, tipo scattare una foto così, e usarla, selezionarla in qualche modo. Questa è un'opzione che secondo me non è proprio adatta per questo laser, o comunque non per il 10 watt. Bisogna giocarci un pochino con le foto, quindi è una cosa che personalmente sconsiglio. Qui invece troviamo delle icone magari già pronte. Adesso magari proviamo a farne una e gliela mandiamo. Selezioniamo ad esempio qualcosa di semplice, come se fosse una farfalla, e proviamo a mandarla. Facciamo su next, confermiamo. Qua ci chiede di collegarci al laser. Adesso andiamo ad accenderlo. Può essere l'indirizzo IP del vostro laser. Se non lo trovate dovete collegarvi al wifi, in questo modo. Trovate SchoolFun, vi collegate. Una volta collegati potete connettervi. Troviamo il laser, possiamo dare un nome al file. Possiamo scegliere la dimensione in cui fare il nostro disegno. Velocità e potenza. Una volta fatte queste operazioni, possiamo mandare direttamente il file al laser e lui ci chiederà se partire direttamente con l'incisione. Gli diamo l'ok e lui parte con l'incisione. La cosa da fare prima è ricordarvi di darvi lo zero al laser e fare un frame, come fate con un laser normalissimo, per essere sicuri che il movimento e l'incisione corrisponda esattamente al pezzo dove vogliamo andare noi ad incidere. Ok, adesso il nostro laser sta lavorando, vedete. Ho messo la protezione. Quello che sentite è la ventola di aspirazione dei fumi che sta cercando di filtrare tutto il fumo. L'air assist, come vi dicevo, si trova nella parte superiore del modulo laser che adesso non riesco ad inquadrare perché dicevo che è un air assist un po' particolare perché è semplicemente la ventola che c'è sopra il laser di raffreddamento che convoglia l'aria esattamente al centro del diodo in modo da creare appunto questo fascio di aria per rendere il pezzo un pochino più pulito. Allora, il laser sta lavorando, diciamo che andiamo nella parte posteriore dove sentiamo la ventola che lavora e ovviamente in video non si capisce ma non esce fumo. Quindi adesso appunto il laser sta lavorando, sta incidendo e non c'è fumo, non c'è quella puzza fastidiosa. Un pochino c'è, un pochino si sente di odore, di bruciato. Non è che fa miracoli, quindi questo potete tenervelo in una stanzetta senza che succeda niente. Ovviamente qualcosina passa, qualcosina. Però è sempre meglio che avere la nebbia di un laser normale senza niente. Ok, siamo arrivati quasi a fine incisione e credo si possa notare appunto ancora una volta che non c'è fumo nonostante qui, non è che sia ermetico la chiusura qui ma alla fine è solo un pezzo di plastica piegato. Ho riuscito a collegare l'Headburn al mio laser semplicemente utilizzando la funzione trova il mio laser da l'Headburn. L'ho collegato in via seriale, quindi con un cavo USB che trovate fornito insieme al laser ed effettivamente in 30 secondi ho collegato l'Headburn al laser. Infatti adesso vi faccio vedere muovendolo che riesco a comandarlo così. Quindi adesso facciamo un test e andiamo a vedere come giocare un pochino. L'area di lavoro, l'utile, che non ve l'ho detta, è 130x130 parla appunto di millimetri e in interesse possiamo fare proprio una valvolo come ad esempio scrivere Animaker. Non è niente male forse è andato un po' troppo veloce come finitura però ha fatto il suo. Io ho usato il laser qualche giorno ho fatto un po' di prova, un po' di test posso dare, diciamo, le prime impressioni dopo qualche giorno di utilizzo. Ho fatto un po' di prove sul materiale che mi hanno fornito come l'MDF devo dire che i risultati sono buoni ho fatto anche il famoso test delle potenze sul multistrato ho provato a laserare anche una foto foto che secondo me non è proprio il massimo convengono sicuramente c'è da lavorare un pochino però non so, a parte che anche con un laser normale io con le foto ancora non sono proprio pratico questa l'ho fatta con l'app con il lightburn non ho neanche provato magari con il lightburn si riesce a giocare un pochino con il frame con il chiaroscuro e si riesce a ottenere magari i risultati un po' migliori ho fatto anche il test di taglio sul multistrato multistrato da 4 mm con velocità 100 mm al minuto già con una potenza del 30% già riusciamo a forare il 4 mm quindi tanta roba ovviamente alzando un pochino la potenza si migliora il fascio aumentando la velocità migliora il fascio ma non tagliamo più come tutti i laser bisogna un pochino giocare un po' con le potenze con le regolazioni però se dobbiamo incidere comunque il fascio è molto 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 preciso io ho provato anche a laserare un po' questo non è venuto niente male ovviamente tutto un discorso di potenze e di prove come sempre ho voluto provare anche a tagliare quindi ho fatto dei test con un multistrato da 10 mm non sono riuscito a tagliarlo quindi 10 mm non si riesce ho provato con una passata con due passate con tre passate potenza 100% 100 mm al minuto non ce l'ho fatta nonostante tre passate non sono riuscito a tagliarlo magari con qualche passata in più si riusciva ma non ha senso 10 mm non ha proprio senso di provare a tagliarlo questo l'ho fatto invece con l'atto e si stava praticamente bruciando il pezzo ma di tagliarlo ma di tagliarlo niente da fare quindi se volete tagliare 10 mm prendetevi un laser da 20 watt e da 30 watt 10 watt sono ancora pochi però che è che deve laserare 10 mm? cosa dovete farci? niente un 3, un 5, un 6 mm ma già vero non è proprio quello che dobbiamo fare noi con un laser quindi in conclusione laser perfetto va benone funziona bene il mio consiglio è che di usare il letburn comunque collegarci al computer sempre perché a giocarci meglio si collega proprio in un attimo con la porta USB lo riconosce in un attimo si collega si fa tutto quello che si deve fare l'app è proprio per velocizzare un pochino per fare dei test veloci però computer è assolutamente consigliato come vedete io qui ho messo una griglia sottostante per provare a fare i test di taglio non è che è indispensabile per vivere per farlo però se volete tagliare se avete intenzione proprio di usarlo per tagliare una griglia ci vuole ve la lascio in descrizione magari è anche un po' più piccola di questa abbastanza per trovare una 50x50 magari una 30x30 una 40x40 potrebbe già andare bene altrimenti usate la sua piastrina usatela così per incendere va a meno nonostante ho provato a bruciare il legno fare proprio tante passate non ho riscontrato particolari odori e fumi quindi il filtro a carbone con l'epa funzionano funzionano bene non me l'aspettavo ma un pochino di odore c'è stato ma non c'era quella nebbia quel fumo che c'è se ne tagliassi senza copertura quindi su quel fattore lì mi ha molto molto soddisfatto devo dire che non me l'aspettavo ma il filtro funziona bene sono rimasto un pochino più dell'uso dal punto dell'app che ovviamente è un po' così ma per il resto tanta roba tanta roba come sempre io vi lascio qui in descrizione il link per acquistare questo vi lascio magari tutte e tre le versioni quella da 3,5 e quella da 10 watt con relativo coupon sconto relativo coupon sconto che sono limitati quindi se per caso il coupon dovesse scadere non dovesse essere più valido lo troverete su telegram sul mio canale telegram puntualmente occasionalmente ciclicamente pubblico coupon sconto sia di questo che di altri prodotti infatti sul sito Jackbuying vi ricordo che non trovate solo laser ma trovate tutto è una piattaforma veramente grossa con dei prezzi molto molto competitivi e si trova veramente di tutto bene ricordatevi di iscrivervi al canale scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video ciao